Maurizio Landini, bentornato, segretario generale della CGL, si guardi Giorgia Meloni. Va avanti a passi spediti il lavoro del governo per riformare questa nazione. L'Italia è al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del PNRR. La cosa che mi rende più fiera di questi due anni di lavoro sono i risultati economici. La riforma del codice degli appalti. Il numero di occupati più alto della storia d'Italia da quando Garibaldi l'ha unificata. La riforma del fisco, l'aumento delle pensioni, particolarmente delle pensioni minime. Nel 2023 siamo stati la quarta nazione esportatrice al mondo. Brava, no? È propaganda, è pura propaganda, perché la realtà è un'altra. Parla di fisco e siamo di fronte all'evasione fiscale che aumenta, condoni che fanno su condoni, gli unici che pagano le tasse sono i lavoratori dipendenti e i pensionati. Questa è la verità. Però lei dice io ho recuperato dal fisco molto più dei governi precedenti. No, guardi, 9 miliardi di quel recupero lì vengono dall'IRPEF. Vuol dire che li hanno pagati i lavoratori dipendenti e i pensionati. La domanda che gli faccio adesso, li ridai indietro oppure no? Cioè quei soldi lì tornano a chi li ha pagati? Mentre lei sta facendo i condoni agli altri. Condoni legalizzati. Ci arriviamo, ma se d'accordo partiamo dall'occupazione. Mai così tanti da Garibaldi in poi. Ma anche questa è propaganda. Perché? Perché stanno... I numeri sono quelli. Scusi, le do questo numero che non lo do solo io. Stanno calando le ore di lavoro. Come si fa ad essere più occupati se le ore di lavoro sono meno? Beh, lavorano di più. No, no. Vuol dire che sono aumentati i part-time involontari. In Italia ci sono 4 milioni e 200 mila persone che fanno il part-time, non perché l'han scelto, ma perché lo fanno lavorare. Prendono 11 mila euro l'ordi l'anno. Ci sono 3 milioni che sono contratto a termine. C'è un milione che fa il lavoro a chiamata. C'è un milione che è interinale. Ci sono milioni di partite IVA che non arrivano a 20 mila euro. In Italia, se andiamo a vedere, è aumentata la gente che pur lavorando è povera. Quindi di che cosa sta raccontando? Allora, però lei non mi parla di lavoro, lei parla di salari. Allora io le faccio vedere. Io parlo di lavoro e di salari. Guardi il cartello 42. I prezzi. I prezzi è un'altra battaglia che Giorgia Meloni sostiene di aver vinto. Allora, in due anni abbiamo avuto la bottiglia di olio di oliva che è passata ai 6-9 euro. Un chilo di pomodori da 1,5 a 2,5. La confezione di caffè da 3 a 5. Il cono gelato da 1,5 a 3. Però lei dice aumentano i salari, quindi bene o male. Ma non è vero. A parte che i salari che sono aumentati in questa fase ci sono perché abbiamo rinnovato i contratti nazionali noi, non perché l'ha fatto il governo. Il governo l'ha fatto noi. Vabbè, ha creato il contesto. No, no, viene di funa. Tutti i lavoratori pubblici, dalla sanità alla scuola, sono tre anni senza contratto. E dal 2022 al 2024, lo dice il governo, l'inflazione è il 17%. Sa cosa hanno proposto adesso? Un aumento del 5%. Noi cosa dovremmo fare? Firmare gli aumenti al 5% con l'inflazione al 17%? Quindi il governo sta programmando la riduzione dei salari. Questa è la verità. Anche perché diciamo l'inflazione è la crescita. Se tu freni la crescita non è che tornano indietro. Certo. Non è che costano indietro. Certo. Le tasse, cartello 44. Guardi, questa è la nuova IRPEF a quanto pare. Ci sarà 18 mesi e 18 euro in più al mese per il reddito di 50 mila euro. Siccome costano un 2 miliardi e mezzo ogni punto di riduzione, si parla addirittura però di due punti di riduzione. No, noi siamo radicalmente contrari a queste riforme. Alle tasse che scendono? No, alla riforma che hanno fatto. Perché hanno fatto la flat tax, quindi c'è chi paga il 15% a parità di reddito, non stanno combattendo l'evasione fiscale. E la storia di ridurre le aliquote, non sono d'accordo. Perché le aliquote devono essere di più e progressive. Perché la storia è che qui ognuno deve pagare in base a quello che prende. Questa riforma fiscale non è vero che aiuti i lavoratori dipendenti e i pensionati. Però aiuta chissà tra i 30 e i 50 mila. No, no, ma guardi che la nostra proposta è di ampliare la platea di chi paga l'IRPEF per ridurre l'IRPEF ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. A questi loro hanno aumentato la tassazione, non la stanno riducendo. E in più, proprio poche ore fa, questi hanno rifatto l'ennesimo condono. Stanno proponendo al concordato preventivo di pagare meno tasse dal 2018 ad oggi, è chiaro? Stanno andando avanti a condoni, altro che lotta all'evasione fiscale. Per gli evasori che aderiscono al concordato per i prossimi due anni, condono tombale sui redditi evasi tra il 2018 e il 2023. Ad esempio, paghi 900 euro e stanno i 20 mila euro di evasione fiscale. Quindi noi lavoratori dipendenti e pensionati che paghiamo le tasse di tutti, siamo i più coglioni d'Italia? No, mi faccia capire. E sa perché dico questa cosa? Perché io penso che tutti debbono pagare le tasse. Perché io voglio avere il diritto a una sanità pubblica che mi è garantito, non voglio le liste d'atteso dover pagare. Voglio il diritto alla scuola, agli attivi. E allora i soldi che vanno presi dove sono. E prendiamoli dalle pensioni, cartello 47, nuovo taglio di adeguamento all'inflazione, statale in pensioni a 70 anni su base volontaria, è solo chi vuole. Quota 41 con ricalcolo contributivo, aumento pensioni minime. Scusi, questi non erano quelli che dovevano cambiare la Fornero? Abolirla. Addirittura abolirla. Siamo di pronte al fatto che qui stanno aumentando. Quando dice aumentata l'occupazione, vado a vedere la classe di età che aumenta di più e quelli che hanno più di 50 anni. Sai perché? Perché non posso neanche più andare in pensione. Quella lì è nuova occupazione? No, lo chiedo. E qui stanno di nuovo facendo cassa. Perché addirittura, non solo c'è questa cosa, stanno tagliando ulteriormente la rivalutazione delle pensioni. Quindi siamo a un taglio netto. Solo per quelle alte però. No, no, perché per lei una pensione da 1.500-1.600 euro è una pensione alta. Uno che ha lavorato 42 anni è una pensione alta e che ha pagato i contributi. Vuol dire che si sta tagliando e loro continuano a fare cassa, sempre con i soliti. Non vanno a prendere i soldi dove sono. Profitti, extraprofitti e evasione fiscale. E da quello la russa forse ha detto sì, no? Ma a cosa c'entra la russa? Non hanno mosso un dito. Sta raccontando balle, vogliono prendere in giro il paese. Noi non ci stiamo. Maurizio Landini, grazie di essere stato con noi. Benvenuto.